salve è già opus continuo continua a lavorare vi aspettiamo quest'estate per una nuova mostra che si terrà a bacoli presso la casina vanditelliana e sarà un evento legato al settecentenario della morte di dante organizzato in collaborazione col comune volete un indizio sul tema vi cito un verso dal quinto canto dell'inferno noi che tignemmo il mondo di sanguigno non è ancora chiaro bene vi posso dire solamente questo una volta arrivati al nostro evento lasciate ogni pudore voi che entrate vi aspettiamo prestissimo